Eccoci qua tornati in un nuovo video, il secondo per la precisione di questa intera settimana, solo video Harry Potter Come vedete qua ci sono tutte le app che andremo ad usare fino a venerdì Tutti a tema Harry Potter, sempre non ci sono app che non c'entri con Harry Potter Ci sono anche gli sponi ma quelli non ci interessano E il gioco che andremo a provare oggi è il cappello parlante Scopri qual è la tua casa Lo attiviamo perché l'avevo già scaricato stamattina per vedere come era fatto È valutato 4,1 La maggioranza di stelle sono 5 E niente, non ho altro da dire Beh beh logicamente è peggi 3 anni E niente Quindi ci possono giocare a tutti Apriamo l'app, vediamo un po' com'è l'interno Ok, molto carino con il cappello che... Scopriamo insieme quale a casa appartiene Inizio, sì, ok Quale dolce vorresti provare? Cioccorane Eh, quale bevanda vorresti provare? Burro birra Ah, senza doppio la tua casa è... Gryffondoro, raga Il mio preferito E niente, e niente Molto carino Gryffondoro E... Gryffondoro Quindi lo possiamo anche ripetere Però prima io devo farci lo screenshot Ok, fatto lo screenshot dovevo, scusate Ripeti, ok Proviamolo a fare adesso a... A... A caso La tua casa È... Tassu Rosso Ok, bene E niente, questo gioco è molto carino Se volete sapere qual è la vostra casa E rispondere con domande audaci e coraggiosi E... Sì Ehm... Ma... È una cavolata, logicamente Non è un'app che l'ha valuto così tanto Ma se vi interessa Harry Potter È molto carina, ecco Non dico che sia per forza da scaricare Vediamo altre app Quiz su Harry Potter Ehm... Niente Ehm... Ragazzi Il video è finito Lo so che è durato poco Ma... Non si può sempre Sempre avere tanto nella vita E... Domani porterò questo Quindi... Niente Bye